Un vero e proprio bunker con stanze nascoste da pesanti blocchi di cemento è quello che hanno scoperto gli agenti del commissariato San Basilio del reparto mobile e della polizia locale in uno dei due appartamenti sgomberati all'alba, periferia nord-est della capitale. La zona è quella delle palazzine di edilizia popolare del Later a impadronirsi abusivamente di un appartamento in via Fabriano e Luigi Marando, membro della famiglia originaria di Platini, ipote di Rosario, esponente di spicco dell'omonima Andrina Platinese. A gennaio 2020 un'inchiesta della DDA Capitolina scoperchiò proprio a San Basilio un articolato sistema di spaccio. L'attività vede impegnate oltre 60 persone della polizia locale e credo un centinaio della polizia di Stato e sta appunto riguardando due immobili occupati da diverso tempo da personaggi di spicco della malavita nella zona di San Basilio. Che il quartiere si accosa loro ne è convinto il gruppo di persone che ha preso a male parole la troupe costringendola ad allontanarsi. Durante la perquisizione sono stati trovati 80 grammi di hashish e 1500 euro in contanti, Luigi Marando denunciato a piede libero. Il secondo appartamento, Ater, sgomberato nell'operazione deliberata dal prefetto Piantedosi nel Comitato Provinciale Ordine Sicurezza, era occupato da Davis Pupillo, anche lui membro di una delle famiglie che si spartiscono lo spaccio a San Basilio, quella del più noto Luigi, pregiudicato, conosciuto alle forze dell'ordine. La prefettura e la questura ritengono che per il ripristino della legalità in questi quartieri si realizza non solo attraverso le denunce, gli arresti, ma anche l'osservanza di tutti i provvedimenti e misure amministrative.